Sono giorni particolari qui a Montelabati, infatti noi oggi ci troviamo di fronte alla scuola elementare in Via Leopardi perché mercoledì scorso è stata riscontrata una positività da parte di un bambino di una classe di seconda al Covid-19. Da quel giorno le cose sono cambiate in questa scuola perché la preside ha imposto agli alunni, compagni di classe del bambino, risultato positivo e di indossare dal giorno successivo la mascherina FFP2, cosa che non è stata fatta da parte dei bambini vista l'imposizione da parte dei genitori che hanno deciso di non fargliela indossare per due motivi. Uno è che il bambino risultato positivo si era isolato già due giorni prima della sua positività e quindi erano già scadute le 48 ore che scattava l'obbligo per quanto riguarda i bambini di indossare la mascherina FFP2 e inoltre la pericolosità di questa mascherina, ovvero anche riconosciuta dal CTS, del fatto che la mascherina non è omologata per i bambini più piccoli. Dopodiché venerdì la preside ha impedito agli alunni di poter entrare in classe, a tutti quegli alunni ovviamente che non avevano indossato la mascherina FFP2. Il lunedì successivo poi le madri degli stessi bambini hanno protestato davanti ai cancelli, protestando appunto contro la decisione della preside, una decisione che è stata invece supportata e accolta in maniera positiva da parte degli altri docenti che 29 su 30 hanno supportato appunto la preside sostenendola. E sempre lunedì 21 febbraio i genitori hanno sporto denuncia alla preside dell'istituto sia per l'interruzione di pubblico servizio che per lesioni. Queste invece sono le parole del sindaco Cinzaferri che ha anche lei espresso una sua opinione. Questa vicenda sì che è successa lunedì mattina, incresciosa, dove sono dovuti intervenire anche gli agenti della polizia municipale. La preside è un pubblico ufficiale, come lo sono io, e possiamo non essere d'accordo alle varie decreti, alle normative che escono, però le dobbiamo far applicare. Quindi io credo che lei si sia astenuta strettamente a quello che c'è scritto nelle disposizioni che sono state emanate dal governo. Il fatto che non esista una mascherina di questo tipo pediatrica, forse è vero, non lo so, però non è colpa sua. Quindi bisognerebbe guardare anche il retro della medaglia. Magari se lei avesse concesso il permesso di entrare senza tenere conto di questa direttiva, forse dall'altra parte magari gli altri genitori gli avrebbero fatto osservazione che non aveva applicato la legge. Quindi bisogna un attimo stare attenti. Lei ha applicato sicuramente quello che c'è scritto nel decreto. Il problema dove sta? Forse nella valutazione del contatto, che era passato troppo tempo e quindi forse non occorreva, non lo so. Questo lo dirà chi di competenza, perché visto che i genitori so che erano accompagnati anche da un legale, sono d'accordo sul fatto che uno debba protestare, ma bisogna farlo con una certa educazione e soprattutto quando facciamo qualcosa dobbiamo pensare sempre a questa cosa chi la sta guardando. Cioè fare vedere uno spettacolo del genere ai bambini penso che sia stato di cattivo gusto.